Atteso per il 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation e Xbox, The Callisto Protocol si è mostrato con alcuni nuovi segmenti di gioco davvero spiazzanti. L'opera di Striking Distance Studios si sta infatti rivelando un'avventura molto diversa da ciò che pensavamo di avere di fronte dopo il primo trailer. Diamole un'occhiata più da vicino. Il protagonista della vicenda, Jacob Lee, è ospite della colonia criminale Black Iron, luogo contagiato da una misteriosa pandemia tecno-messianica. Sulle prime il nostro eroe ci era sembrato una preda senza speranza, ma nel nuovo materiale diffuso mostra invece una forza e un coraggio all'altezza del più classico eroe dei videogiochi. Il sistema dei comandi è quello tipico di un action, ma con una particolarità non da poco che siamo curiosi di toccare con mano. Per schivare è necessario muovere la levetta analogica sinistra nella direzione che riteniamo più sicura, mentre inclinandola verso il basso Jacob cercherà di parare con la sua mazza metallica. Durante l'azione si colpisce duro con bastonate, gomitate e pestoni, cercando di annientare definitivamente le mostruose minacce che popolano gli scenari. Con l'arma da fuoco a nostra disposizione sarà possibile mirare ai singoli arti e colpirli fino alla mutilazione, così da rallentare o privare degli attacchi più pericolosi i nemici che avremo davanti. Colpendo ripetutamente un obiettivo, compariranno inoltre dei target sul suo corpo, a cui potremo sparare raddoppiando il danno inflitto. Un ruolo fondamentale sarà giocato dall'arma gravitazionale di Jacob, capace di attirare a sé gli avversari per poi scaraventarli via. Attraverso questa tecnica sarà possibile sfruttare eventuali pericoli ambientali per sbarazzarsi immediatamente dai nostri oppositori. Le diverse armi potranno essere modificate attraverso appositi terminali, spendendo una valuta che raccoglieremo lungo l'esplorazione. Alcune bocche da fuoco potranno essere inizialmente migliorate per quanto riguarda la capienza del caricatore, il danno e la stabilità, ma abbiamo anche intravisto diverse tipologie di colpi sbloccabili nelle fasi più avanzate. Ad altri strumenti di morte potremo invece fornire più potenza egittata, mentre sul versante difensivo l'efficacia della mazza di Jacob potrà aumentare. Se abbiamo trovato delle somiglianze con altri titoli, queste non ci hanno portato verso Dead Space, ma dalle parti degli ultimi God of War. Il modo in cui i nemici si avvicinano e attaccano, la telecamera ravvicinata sopra la spalla del protagonista, il ritmo dei colpi e il loro peso, gli enigmi che non interrompono il flusso del gameplay. Molti degli aspetti di The Callisto Protocol sembrano strizzare l'occhio alle ultime avventure di Kratos. L'opera di Striking Distance sembra, insomma, più votata all'azione che a quella terrorizzante indolenza degli horror ai quali si ispira. Una scelta tutt'altro che negativa e che non ha nulla a che vedere con la qualità del gioco, ma che indica come pubblico di riferimento coloro che preferiscono approcci più fisici che mentali. Tecnicamente il titolo sembra più che solido, puntando ai 60 frame al secondo, scelta che però sembra aver limitato un po' i dettagli. Le creature appaiono invece davvero molto rifinite, come del resto il volto di Jacob e delle diverse vittime che il protagonista incontra lungo il suo cammino. A questo proposito ancora non sappiamo se ci saranno anche altri personaggi in questa prigione siderale. Il nuovo materiale non ha dato molto risalto ad ambientazioni vaste, in quanto piuttosto ha spazi stretti e fumosi, con l'unica eccezione rappresentata da un'ampia piazza interna nei pressi di una stazione ferroviaria. La durata media dell'esperienza si attesterà sulla quindicina di ore, ma come sempre influirà la bravura e la curiosità dell'utente e il livello di difficoltà scelto tra i tre disponibili. Cosa punta ad essere De Callisto Protocol? Un action moderno o un survival come non ne fanno più? Per rispondere a questa domanda bisognerà aspettare il 2 dicembre. Nel corso della presentazione avremo forse desiderato vedere scenari più spettacolari ed effetti di luce più aggressivi, ma siamo sicuri che gli sviluppatori abbiano ancora molte carte da scoprire. E voi cosa ne pensate della direzione che sta prendendo l'horror di Striking Distance? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie, e alla prossima!